Lo scorso fine settimana gli assoluti di Tagli Enduro 2022 firmati Aikman hanno finalmente preso il via sotto l'occhio attento della Federazione Motociclistica Italiana che ha condotto il motoclub Sanremo e Off-Road Pro Racing in questo nuovo entusiasmante capitolo del fuoristrada targato. La prima assoluta è stata disputata ad Arma di Taggia in provincia d'Imperia, notevole al riscontro numerico con il numero massimo di iscritti ovvero 245 alla partenza della prima e seconda prova pienamente raggiunto. Protagonisti del weekend Andrea Verona e Emish McDonald il primo round ha visto il Vicentino della Gas Gas e il neozelandese alternarsi nelle vittorie. Tra gli assenti degni di nota Steve Holcomb e Joseph Garcia impegnati negli USA nelle prime tre prove del campionato Grand National Course Country e il portacolori del motoclub Sebino Brad Freeman che ha rimediato in allenamento una frattura alla clavicola sinistra. Il pilota inglese è già stato operato e non dovrebbe mancare in occasione della seconda prova degli assoluti in programma il 10 aprile a Cavaglià in Piemonte. Il filo conduttore ci porta all'esordio positivo della società guidata dal vulcanico Costante Bontempi. Nella 125 doppio primo posto per Danny Philippaerz, nella stessa categoria terza e seconda posizione per Matteo Grigis mentre il fratello Thomas nella 250 ha ottenuto per due volte la medaglia di bronzo. Nella 300 grandi prestazioni per Davide Potaguarneri primo di classe in entrambe le giornate. Nella 450 doppio primo posto anche per Davide Martini mentre nella Coppa Fim Edgardo Paganini ha ottenuto prima la terza e poi la prima posizione. Grazie a questi risultati il motoclub Sebino ha primeggiato in ambedue le giornate di gara. Al secondo posto il motoclub Trial Davide Fornaroli grazie ai piloti Alex Salvini, Luca Marotulli, Lorenzo Macoritto e Morgan Lesiardo nel ruolo di vice. Terza posizione per il motoclub Lago di Seo in virtù delle prestazioni di Manolo Morettini, Rudy Moroni, Lorenzo Bernini e Daniele Del Bono.